Se lo Stato mi chiede il 50 e passa per 100, sento che è una richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato ad evadere, per quanto posso, questa richiesta dello Stato. Che è stata data a riguardo delle vicende inerenti e le liste del popolo della libertà a Roma, voglio dare una ricostruzione fedele e incontroversibile dei fatti depurati da...